Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle, ha incontrato il suo mentore di danza Carlo Aloia per affrontare insieme questa nuova sfida. Carlo, una delle nuove aggiunte al team di Millie Carlucci, si è unito a Sonia nella sala di allenamento per le prime prove. Purtroppo le cose non sono andate come sperato. Durante il primo giorno di prove, Carlo si è rivolto a Sonia, visibilmente sofferente ma determinata, chiedendole cosa fosse successo. Nonostante il dolore, Sonia ha mantenuto il sorriso e ha scherzato sul numero di colli che si possono formare su un dito. Il maestro di danza ha risposto con pazienza, ma Sonia non ha ceduto facilmente. Con 15 calli e 10 dita, Sonia ha mostrato i suoi piedi feriti e ha sottolineato il duro lavoro che sta svolgendo. Mostrando una scatola di scarpe, ha annunciato con tristezza di non poter indossare i tacchi a spillo di 12 centimetri. Nonostante le difficoltà, Sonia si è mostrata determinata a superare gli ostacoli e a dare il massimo durante la competizione. Il viaggio di Sonia Ballando con le stelle si preannuncia pieno di sfide e sacrifici, ma la sua determinazione e il supporto del mentore Carlo potrebbero portarla alla vittoria. Resta da vedere come si evolverà la sua avventura sul palcoscenico e se riuscirà a conquistare il pubblico con la sua grinta.